Ciao a tutti, ben ritrovati, proseguiamo con il secondo problema che riguarda il calcolo dell'entropia, abbiamo parlato di entropia e stiamo risolvendo i primi problemi riguardanti anche questo argomento tra gli altri e anche quelli precedenti, leggiamo il problema che vedete in grafica, una macchina termica scambia la quantità di calorie Q1 pari a 550 calorie, Q2 pari a 60 calorie e Q3 pari a meno 300 calorie, con tre sorgenti a temperatura T1 pari a 1000 Kelvin, T2 pari a 400 Kelvin e T3 pari a 300 Kelvin, rispettivamente stabilire se la macchina è reversibile o meno e calcolarne il rendimento, determinare inoltre la variazione dell'entropia dell'universo alla fine di un ciclo. Allora scriviamoci subito i dati di questo problema interessante, scriviamoci i dati, i dati in rosso questa volta preferisco e allora partiamo con la scrittura dei dati, evidentemente direi che il dato numero 1 è senz'altro la qualità di calorie Q1, che ci dicono valere un 550 calorie, le qualità di calorie ci vengono assegnate in unità di misura a calorie, poi Q2 evidentemente è 60 calorie, dato numero 3 ovviamente è la quantità di calorie Q3 che ci dicono essere un calore ceduto, quindi un meno 300 calorie. Poi ci sono le tre sorgenti a temperatura, quella la sorgente calda, dato numero 4, T1 uguale a 1000 Kelvin, poi abbiamo il dato numero 5 che è la sorgente a temperatura T2 pari a 400 gradi Kelvin, dato numero 6, temperatura T3 di 300 gradi Kelvin. chiaramente direi che non c'è altro da dire, possiamo tirare la nostra solita linea e a questo punto partire. Allora per stabilire se la macchina sia, qua dice è reversibile, sia reversibile, questo è un testo esame assieme alla facoltà di ingegneria chimica all'università della Sapienza negli anni, fino anni 90, inizi anni 2000, per la verità forse 2010, che in realtà non è fino anni 90, per stabilire se la macchina sia reversibile o meno, cosa dobbiamo ricordarci? Dobbiamo ricordarci una delle conseguenze fondamentali del teorema di Carnot che abbiamo affrontato nella parte teorica, vi invito a guardarla, www.ingcerroni.it, questione di fisica, teoria, verso la lezione termodinamica trovate le spiegazioni. Qual è una delle conseguenze fondamentali del teorema di Carnot? La somma algebrica dei rapporti tra le qualità di calore scambiate da una macchina di Carnot e le temperature assolute delle sorgenti con cui è avvenuto tale scambio non è mai positiva. Ripeto, non è mai positiva. E in particolare è nulla se la macchina è reversibile. Negativa, viceversa, se la macchina è irreversibile. Nel nostro caso scriveremo che Q1 fratto T1 nel somma algebrica più Q2 fratto T2 più Q3 fratto T3 Vediamo che cosa è uguale. Possiamo calcolarlo perché abbiamo che Q1 su T1 evidentemente è 0,055 più 0,15 è meno 1 perché Q3 è meno 300, su 300 è meno 1, ovvero un meno 0,3 che è un qualcosa di negativo. E allora evidentemente lo possiamo scrivere chiaramente il ciclo di tale macchina è evidentemente irreversibile in che inizia con la I. Il ciclo di tale macchina è irreversibile perché? Perché la somma, ripeto, algebrica dei rapporti fra la qualità di calore scambiata dalla macchina dalla macchina in questione e le temperature assurde delle sorgenti con cui è avvenuto tale scambio è evidentemente negativa. Problema molto facile ma che ci può servire per capire questi primi concetti e adesso vedremo anche l'entropia dell'universo. Allora, seconda domanda, ci chiedono di stabilire se la macchina sia reversibile o meno l'abbiamo visto, la macchina è irreversibile, il ciclo di questa macchina è irreversibile. Ora, tacciamo un'altra linea di demarcazione, stavolta dritta se è possibile. Magari facciamola anche questa dritta. Magari vediamo di farla dritta, visto che non mi piacciono le cose storte. Eccola qua, facciamo una bella dritta, incredibile. e adesso andiamo a rispondere alla seconda domanda, cioè ci chiedono di calcolare il rendimento. Molto facile, ricordiamo che il rendimento di una macchina termica di Carnot, in questo caso che sia reversibile o irreversibile, in questo caso è irreversibile ma comunque vale sempre, è pari a 1 o più, ve lo ricordo, la qualità di calore ceduta dalla macchina fratto la quantità di calore assorbita in generale. In questo caso è molto semplice perché evidentemente la quantità di calore ceduta è l'unica quantità di calore negativa in questo caso, cioè Q3, quindi sarà 1 o più evidentemente Q3, mentre invece il calore assorbito è la somma di Q1 e Q2, sono i due calori che appunto sono positivi. Non ci possiamo sbagliare e se fate questo conto vi viene un 0,51, quindi abbiamo un rendimento addirittura pari circa al 51%. Infine ci chiedono, e questo è molto importante, di determinare la variazione di entropia dell'universo alla fine di un ciclo. Io vi ricordo che per universo intendiamo il sistema che esegue la trasformazione, nel nostro caso il ciclo di tale macchina termica è il ciclo irreversibile, quindi per universo intendiamo il sistema che esegue la trasformazione e l'ambiente con cui avvengono gli scambi di calori. In questo caso, nel nostro caso, parliamo delle tre sorgenti assegnate, quindi avremo che la variazione di entropia delta S dell'universo è pari alla somma delta S del ciclo più delta S delle sorgenti. Nel nostro caso, visto che il ciclo è irreversibile, visto che nel nostro caso trattasi, l'abbiamo visto, di ciclo irreversibile, lo abbiamo dimostrato, la variazione delta S del ciclo evidentemente è nulla, lo sappiamo. E dunque, delta S dell'universo è pari a solo delta S delle sorgenti, cioè uguale in questo caso a delta S dell'ambiente, ovvero quantità maggiore di zero, maggiore di zero perché il ciclo è irreversibile. E quindi delta S dell'universo che cos'è? Beh, sarà evidentemente pari alla sommatoria, e lo sappiamo, di meno Q con I su T con I, la somma. Ma l'abbiamo già fatto questo, sarebbe Q con 1 su T con 1, più Q con 2 su T con 2, più Q con 3 su T con 3. E pertanto, ovviamente, la sappiamo, quel meno, con quel meno 0,3 di prima, otteniamo quindi che delta S dell'universo, che è positiva perché parliamo del delta S dell'ambiente, e il ciclo è irreversibile, deve essere quindi positiva, meno per meno più, 0,3 effettivamente calorie fratto gradi Kelvin. E possiamo dire, in questo caso, abbiamo risolto facilmente questo problema, ancora una volta riguardante la variazione dell'etropia dell'universo in questo caso. Ciao a tutti. Ciao a tutti.